Ciao a tutti, io sono Niccolò e lei è Lana, la nostra cagnona che da qualcosa più di tre anni ormai vive con noi in famiglia, famiglia composta da me, Loriana la mia compagna e il nostro figlio Ettore di 12 anni. Io sono sempre stato più gattaio ma con l'arrivo di Lana mi sono letteralmente innamorato e è diventata un membro della famiglia. All'inizio per un paio d'anni ho preparato io l'alimentazione per Lana, facevo dei meravigliosi minestroni con carni varie, frattaglie di manzo, pollo eccetera e lei insomma gradiva molto. Poi però ha iniziato a avere tutta una serie di brutte scoriazioni sulla pelle, quindi una dermatite che poi con il continuo grattarsi, leccarsi, mordersi da parte sua era diventata veramente brutta, cioè delle piaghe anche aperte per cui diciamo ovviamente su indicazione del veterinario abbiamo deciso di passare a un'alimentazione secca e sul consiglio del macellaio che inizialmente mi riforniva appunto di carni per Lana, anche lui diciamo felice possessore di utane, mi sono indirizzato verso Dogbauer. Abbiamo da subito, ci siamo da subito orientati sulle crocchette Dermat, ipo allergenico, monoproteiche, proteine del pesce. Ci siamo trovati benissimo, Lana ha da subito iniziato a stare meglio, ovviamente il passaggio dalla carne alle crocchette non è stato proprio indolore per lei, però insomma ora invece le gradisce, le mangia e la sua condizione è migliorata tantissimo, tra l'altro devo dire anche diciamo la situazione intestinale è migliorata tantissimo rispetto all'alimentazione preparata da me. Dogbauer, che dire, mi sono trovato benissimo fin da subito, dico solo questo, dopo il primo ordine, la mattina successiva al primo ordine fui contattato al cellulare dal signor Alberto, se non ricordo male, che insomma mi dette tutta una serie di consigli, di ulteriori indicazioni che sono state molto utili e soprattutto hanno contribuito a creare un rapporto simpatico. Il tutto supportato da consegne rapidissime, efficienti, senza costo di spedizioni, quindi che dire, siamo felici e soddisfatti del rapporto con Dogbauer. Ciao!